Il 10 luglio 1856 nasceva Nikola Tesla. Colò il quale ha rivoluzionato l'elettromagnetismo, dettando le basi per ogni evoluzione futura. 165 anni dopo, nel pieno dell'era digitale e nella più complessa e incerta rivoluzione della mobilità, nasce Reinova. Il nostro obiettivo è quello di creare innovazione immaginando un mondo nel quale la vita possa diventare più semplice, per tutti. Reinova è la culla dove l'innovazione incontra la creatività per disegnare il progresso, dove andare oltre l'ovvio diventa una costante ricerca della perfezione. La tecnologia si fonde con la forza del pensiero, componendo visioni magiche verso un futuro più connesso, condiviso e sostenibile. Scegliere vuol dire responsabilità, prendere decisioni e tracciare un percorso, anticipando esigenze e necessità in una costante innovazione per creare un domani migliore. Perché il futuro si costruisce sulle scelte fatte nel presente, guidate da una straordinaria visione e basate su forti valori indirizzati da una chiara missione. Passione, curiosità, creatività, intuizione, dedizione. Questo è ciò che ci anima nella nostra sfida con il progresso, nel raggiungere le vette dell'innovazione salvaguardando il pianeta. We work as one. Siamo Reinova. Grazie a tutti.